Amici Cucciolotti sono le figurine per i bambini da 0 a 100 anni in su. Fanno bene ai piccoli, ai grandi e per i nonni sono consigliate da un prestigioso comitato scientifico. Completare la collezione è un gioco divertente che allena la mente e scalda il cuore. Perché bastano otto bustine di figurine per riempire una ciotola di cibo e sfamare un trovatello. Con le figurine Amici Cucciolotti sei tu che salvi gli animali. Pizzardi Editore, figurine per amore.